Linea dura di Grillo contro il nuovo governo e schiduce attraverso il blog al senatore Alberto Orellana che insieme ad altri tre grillini aveva criticato il comportamento del leader nell'incontro con Renzi. Un'assemblea del Movimento la prossima settimana potrebbe decidere l'espulsione di tutti e quattro. Stessa maggioranza, stesse facce, stessa assenza di un progetto politico. Questo governo nasce morto al momento già del suo inizio. L'unica forza politica che ha un progetto di paese è il Movimento 5 Stelle. Per questo faremo un'opposizione responsabile che manderà questo governo a casa il prima possibile.